Hai mai pensato di essere premiato per aver investito una somma di denaro nella tua economia? Oggi, grazie al Fondo PIR Banco Posta Rinascimento, è possibile! I piani individuali di risparmio PIR, infatti, nascono con il duplice obiettivo di sostenere le imprese del nostro Paese e offrire agli italiani un'opportunità di investimento fiscalmente agevolata. Detenendo l'investimento per almeno 5 anni e rispettando i limiti stabiliti dalla normativa, potrai beneficiare dell'esenzione dalla tassazione sui redditi finanziari, ottenendo così un risparmio fiscale. Il Fondo Banco Posta Rinascimento è gestito da Banco Posta Fondi SGR, la società di gestione del risparmio del gruppo poste italiane, con delega di gestione ad Anima SGR per la componente azionaria italiana. Il portafoglio bilanciato punta al potenziale di crescita dell'economia reale italiana, costituita da realtà aziendali dinamiche, reattive e spesso leader nei rispettivi mercati. Investire in Banco Posta Rinascimento significa sostenere concretamente il tessuto imprenditoriale italiano, puntando sulle imprese selezionate secondo le migliori prospettive di crescita. Banco Posta Rinascimento, il piacere di investire nelle aziende italiane.